E' chiaro che la campagna sta scontando oggi ritardi di almeno cinque mesi in cui era conclamata una ipotesi di recrudescenza dell'epidemia che oltre a durare per tutto il 2020 si prospetta che avrà un proseguio anche per l'anno 2021. Ed ieri infatti la notizia che l'unità di crisi regionale ha disposto alla sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici alle case di cura private, accreditate agli ospedali classificati del sistema sanitario regionale. Ciò per la regione significa che gli screening non sono importanti, un'ernia al disco non sarà operata, interventi di piccola chirurgia seppur non vitali saranno disdettati e non messi in lista d'attesane per i prossimi mesi e quanto possa essere indispensabile in chiave di prevenzione, diagnosi e cura comunque importanti per la vita di una persona non saranno effettuati e altre patologie seppur rientranti nei livelli essenziali di assistenza per la regione Campania evidentemente non sono così essenziali. Questa disposizione emanata dalla regione non farà altro che aumentare l'afflusso dei pazienti con patologie varie in attesa di diagnosi e in attesa di screening negli ospedali che hanno già dimostrato una volta la loro totale inefficienza e mancanza di organizzazione. Per non parlare poi dell'adeguata individuazione dei percorsi covid e non che stanno determinando il contagio per numerosi operatori sanitari, quanto tutto questo inciderà sulla salute dei cittadini salernitani non è facile da stimare ma qualcosa si può immaginare. Tutto questo, sottolinea il segretario generale CISLFP Pietro Antonacchio, sta creando inevitabili conseguenze e il futuro senza adeguate misure di contenimento e di prevenzione si prospetta ancora più drammatico. Occorre evitare il panico e l'unica strada è dare risposte veloci ai diversi bisogni dei cittadini, a chi ha il sospetto di essere stato contagiato, a chi è positivo ma anche a quanti devono eseguire uno screening o un intervento di chirurgia e di fondamentale importanza quindi il sostegno degli enti convenzionati e accreditati, suggerimenti e idee. Il sindacato le ha. Quel che manca è la terza parola chiave, confronto che a livello regionale in ogni singola azienda dal mese di febbraio manca e forse è questa la ragione di tanta approssimazione e incoerenza. Bisogna che il presidente cominci sul serio a pensare che da solo non ce la può fare e che cominci a confrontarsi con tutte le parti sociali anche in considerazione che tutti gli strumenti messi in campo e i dirigenti che stanno operando risultano inadeguati a gestire una situazione complessa ed esplosiva.